Hanno molta distanza da qui, sulla costa di Calabria. Giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione interamente del nostro paese. Il ricordo del naufragio di Steccato di Cutro è il cuore del discorso che il presidente Sergio Mattarella ha tenuto a potenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Basilicata. La presenza tra i naufragi di profughi afghani, ha detto il capo dello Stato, ha fatto tornare in mente quanto quasi due anni fa il nostro paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano Kabul per portare in Italia tutti i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione. Ci fa tornare alla mente le immagini televisive della grande fola di afghani all'aeroporto di Kabul che imploravano un passaggio in aereo per recarsi altrove. Ci fa quindi comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro cercano di lasciare con sofferenza, come sempre avviene, la propria terra per cercare un avvenire altrove, per avere possibilità di un futuro altrove. E ancora in riferimento alla tragedia davanti alle coste crotonesi, Mattarella ha lanciato un monito. Il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dall'Italia per la sua parte, dell'Unione Europea, di tutti i paesi che ne fanno parte.